C'è French Momo e X12XX che è entrato un secondo fa ma non fa niente E ragazzi, oggi cercherò di vendere una bellissima con questi qua tre individui Perché a me mi conosciete E niente, oggi cercheremo di vincere con questi nostri amici Conosciuti venti secondi fa circa ma anche di meno ve lo giuro Fra ma tu non conti, io devo parlare di questi nostri due a poco d'altro No ragazzi, non è tutto pronto No ragazzi, vorrei fare creativa però No ragazzi, dobbiamo fare squad Ragazzi, ho preso già una bella miniatura per il video Allora, ragazzi, io gli devo dire una cosa Allora, mio cugino non è italiano, parla solo francese e arabo Poi, lui ci sente ma lui non può parlare con noi Perché semmai solo io posso parlare con lui perché l'indica è chiamata con me Ma dici anche lui di scriversi al mio canale youtube Non è tutto Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Non si sa. Sì, sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.